Ciao amici, buongiorno e buonasera, bentrovati in questo nuovo video, siamo su Pausa Caffè Live, per parlare di gossip, un gossip che leggermente si sposta diversamente dal grande fratello Vip, come dal solito, e parliamo di Rania di Giordania, che è considerata tra le donne più eleganti al mondo, anzi confermate melo voi se è così, e tra le regine la sua unica rivale è forse solo Letizia di Spagna. Negli anni abbiamo ammirato il suo stile, sempre uno stile impeccabile, anche nell'essere alle volte estrosa o casual, è in grado di passare dai brillanti abiti da sera ai sere completi per le occasioni, quelle speciali, quelle ufficiali, a jeans e a semplici t-shirt per le giornate in famiglia, quelle un po' più tranquille. Però anche una regina di stile come lei, no? Può sbagliare qualche mossa, e ne è la dimostrazione l'outfit scelto per il suo incontro ufficiale con un'altra sovrana, Silvia di Svezia, in visita in Giordania proprio in questi giorni. L'errore praticamente risiede nell'abbinamento dei colori, colori per nulla coordinati, a differenza dell'altra regina che ha usato ma con criterio, quindi ha spiccato di più. Che si tratti di un evento ufficiale, di un viaggio di stato, di uno scatto costato sui canali social, Rania riesce ad ammaliare sempre tutti, e ritornando indietro nell'album dei look, neanche nei temibili anni Ottanta e nei primi anni Duemila, molto diversi per il concetto di eleganza rispetto ai giorni d'oggi, lei non ha mai sbagliato un colpo. Eppure, come si dice, c'è sempre una prima volta, no? I colori vivaci sono sempre la sua carta vincente, le sfumature della sua pelle, la raffinatezza del suo portamento, e quel fisico quasi da modella, anche se ha la teneretà di 52 anni, lo so, è una donna, non si dovrebbe dire, ma lo dico perché in realtà le permettono di indossare praticamente ogni colore. L'errore, o così lo vorremmo definire, è stato questa volta abbinare troppi colori insieme, troppi, perché alla fine esce fuori Arlecchino, no? Eh sì, anche le regine possono sbagliare, e se la schiena nuda muscolosa di Letizia ha fatto clamore, i cappotti di Kate Middleton non sempre sono all'ultimo grido, no? E Rania ha toppato in un'occasione troppo però importante, la visita di Stato di Silvia di Svezia. E se la scorsa settimana si è ammirati Rania di Giordania in uno splendido abito rosso che ha esaltato la sua bellezza, oggi la vediamo con troppi colori che rendono il suo outfit soltanto molto confuso. Per l'incontro con Silvia, perfetta nel suo completo abbinato cappotto vestito rosa e oro, lei ha scelto un look del giorno decisamente da bocciare. Si parte da un cappotto leggero blu, stretto di vita, per poi passare a una blusa azzurra cielo e una gonna sul ginocchio bordeaux. Il colpo di grazia? Eh sì, come se non bastasse. Un paio di décolleté pitonate e una borsa di pelle bordeaux con inserti neri. E ci sembra quasi di non riconoscerla. Un look davvero da dimenticare e insolito per lei, che sceglie sempre con maestria invece i suoi capi, anche quando osa. A meno che, a meno che, c'è qualcuno che magari le consiglia, o c'è qualcuno che addirittura gli sceglie vestiti, che questa volta era leggermente assente. Resta comunque, signori, il merito di essere stata impeccabile nella sua accoglienza dei soprani di Svezia, sostituendo, almeno in questo primo incontro, suo marito, cioè re Abdullah II. Rania rimane una soprana illuminata, un faro per il suo paese, ma anche per i tanti confinanti. Insomma, possiamo dire una figura che, negli ultimi 25 anni, ha dimostrato al mondo il potenziale e lo sviluppo della Giordania. E non certamente per i suoi look, ma con le sue parole, i suoi gesti e la sua intelligenza. E questo, cari amici, è tutto per quanto riguarda questa news. Vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti al canale, oppure seguite la pagina. Io vi aspetto, come ogni giorno, su Pausa Caffè Live.